Posso rubare un minuto? Certo. No, ne senza te. Sì, 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 sì. Grazie a lui, ho sbagliato persona. Ah, sì. 30 secondi contatti. No, non ti preoccupare, anzi, stavamo parlando del più e del meno, ma... No, poi te lo lascio. Sì, sì, no, ma stavamo parlando del più e del meno, c'è proprio... Posso rubare 30 secondi? Non penso che tu abbia qualcosa da dirmi, oggi ho sentito abbastanza bene e mi è bastato quello che ho sentito. Ok, l'unica cosa che io ci tenevo a dirti è una. Io di base sono una persona senza filtri e purtroppo quando parlo spesso non collego il cervello alla bocca e dico tutto quello che mi passa per il cervello. Il mio è stato semplicemente una cosa detta a cazzo, basandomi sull'estetica, senza motivo... Io mentre salivo ho già ti guardato. Quando? Se tu zitta facevi la veranda, e infatti le messe no. Mi fa sesso, mi fa sesso, già correvi. Ancora, ma che... Quindi ho detto a posto, scendo e risento nuovamente come mi fa sesso. Io non mi sento di aver detto, ho detto una cazzata. Che hai detto? Ho detto, sono uscita e ho detto, mi fa sesso. Ah, allora quello che ho detto ora io, che dice, mi fa sesso che sono il mio pazzo, stai dicendo minchia di me, ma vai a fare impazzire tu stasera, ma fammi capire. Ma io ci sento buono, Teresa, Teresa, ci sento buono. Oh, quindi quando dico sesso significa sentire proprio chissero. Ma fai pigliare per far da me all'ultimo, se ti stai dicendo che ho sentito buono da ora. Ho capito, ma stavamo parlando pure di un'altra cosa. Ok, chiede un altro discorso. Quando ti risentono le ore da fare cazzato che ci sento buono, che chi mi ha scritto? No, che mi dici, no, non è vero, non è vero. Lo riciste, è allora. Ok, vuoi avere ragione te. Non voglio ragione, è fu così. Quando l'ho detto in quel momento, sì, ma quando parlavamo di sesso non parlavamo solo di quello perché lei mi stava dicendo di Wolf, ok? L'hai detto. Sono del parere che se una donna deve stare, vuole, cominciare una conoscenza, possibilmente... Infatti, sono un cogliona io, infatti, hai ragione te, sono un cogliona io. Abbiamo finito. Abbiamo finito, infatti. A parlare in capo, ma a fare impazzire, ma va a vedere una chirolla. Sì, ma va a fare... Sbaglia, per chi sbaglia. Sbaglia e vuole pure un ragione, non solo. Non vada pure a fare un tocco, ho capito.